Un percorso di eccellenze enogastronomiche fatto di sapori e fragranze dell'irpinia ma non solo, dall'olio ai vini alla pasta ai prodotti lattiero caseari alla carne di prima scelta che accompagnata in tingoli e salse prodotti dai migliori produttori si trasforma nella regina di un panino sublime. Tutto questo è solo una declinazione dell'evento dedicato agli operatori del settore Oreca a cui la Caramella Food & Beverage ha voluto dedicare un'intera giornata a degustazione di prodotti e confronto con le industrie produttrici per la terza edizione di Un giorno con la Caramella. Un giorno con la Caramella ha un modo particolare per riunire tutti i fornitori. Fornitori, distributori e clienti. Siamo riusciti ad ottenere questa venda grazie anche alla giornata di sole. Ci sono un sacco di presenza, sono tutti i nostri clienti e non clienti del settore pub, ristorante, pub, pizzeria, alberghi. Siamo contenti, dopo tutti questi impegni che ci abbiamo messo finalmente grande manifestazione, è riuscita alla grande, è stata riuscita alla grande, siamo contenti. Poi voglio dire, si mettono in vetrina i prodotti enogastronomici delle nostre terre? Sì, è un momento che tutti i clienti possano acquistare i prodotti e possano richiedere informazione sui prodotti ai fornitori che sono presenti qua.